Sul sito mi chiedono spesso come comportarsi quando si addieta con gli altri, con gli amici, con i familiari. Allora facciamo due discorsi differenti. Per quanto riguarda i familiari, quindi le persone che vivono con voi, che vivono con te, è bene coinvolgerle, far sapere loro che stai facendo la dieta, perché possono diventare degli alleati e soprattutto possono evitare di metterti sotto gli occhi dei cibi che per te sono particolarmente golosi e che ti porterebbero a sgarrare e quindi possono diventare proprio dei coach che ti aiutano ad andare avanti nella dieta. Un altro discorso dobbiamo fare rispetto agli amici. Non sei costretta a dover dire loro che sei a dieta. questa è una scelta personale, ma se non lo volessi fare è assolutamente condivisibile e puoi inventarti una piccola scusa, direi una piccola bugia, come per esempio che hai delle allergie e quindi non puoi mangiare determinati alimenti, oppure che sei indisposto e non ti senti tanto bene, in modo che non debba essere costretta ad informare gli altri di questa tua scelta. Grazie. Grazie.